La nostra amministrazione è una struttura sanitaria, è un'azienda sanitaria locale, quindi ha a che fare sia col territorio che con gli ospedali e la caratteristica principale è quella di offrire realmente un servizio alla persona. Come si è sempre detto e previsto per legge è necessaria la partecipazione dei cittadini per rendere un servizio sempre più vicino alle loro richieste e anche per capire il grado di soddisfazione che hanno nei riguardi di questi servizi. L'innovazione che noi abbiamo fatto è avere introdotto anche a livello istituzionale, quindi attraverso l'atto aziendale, un organismo che è composto da rappresentanti delle associazioni di volontariato. Io credo che siccome è stata un'esperienza attuata con una metodologia molto trasparente ma anche molto rigida, è sicuramente esportabile non solo nella regione Lazio ma in tutta Italia.